Il piano d'ambito dei rifiuti di Pesaro Urbino è stato bocciato dalla Regione Marche. L'esito negativo alla verifica di conformità riguarderebbe il conferimento nelle discariche dei rifiuti speciali non pericolosi di origine industriale. Per questi, infatti, ci sarebbero quantità eccessive che supererebbero il doppio limite imposto dal Piano Regionale dei Rifiuti del 2015, che prevede un 50% dei rifiuti urbani e la provenienza dall'ambito regionale. L'assessore regionale Stefano Aguzzi ha così scritto all'Assemblea Territoriale di Ambito, quindi al Presidente della provincia Giuseppe Paolini, rilevando che il piano non ha le caratteristiche richieste dall'attuale legge regionale. Da lì sarebbe scaturita l'ipotesi di effettuare un ricorso al TAR al momento rinviato. Oggi si terrà un nuovo incontro. Oggi io, come già definito da una settimana questa parte, incontrerò il Presidente della provincia, il Direttore dell'Ata di Piesa Urbino, insieme ai tecnici della Regione Marche. Così eravamo d'accordo già dalla settimana scorsa e non per niente sono rimasto molto sorpreso e perplesso di questa convocazione d'urgenza che ieri il Presidente ha voluto portare avanti come Ata, chiedendo addirittura di ricorrere al TAR contro una lettera che gli ha girato la Regione Marche. Noi eravamo già d'accordo per questo incontro, non vedo perché si è voluto dare questa accelerazione ieri. Forse per anticipare questo incontro e venire a questo incontro con un qualcosa in mano, evidentemente ai fini un po' di forzatura, se vogliamo. Hanno fatto bene la maggior parte dei sindaci in maniera molto saggia a dire ma se domani ti devi vedere con l'assessore non vedo perché dovremmo votare una cosa prima. Questo infatti così sarà, ma io oggi non farò nulla col Presidente della provincia. Oggi con il Presidente della provincia concorderò la data della nuova assembleata alla quale vorrò partecipare.